Si è conclusa la prima parte di un iteramministrativo complesso che ha coinvolto provincia, regione e agenzia del demanio, nella cui sede a Campobasso è stato formalizzato l'atto che sancisce la consegna in uso governativo della Biblioteca Provinciale Albino di proprietà demaniale al Ministero dei Beni Culturali. La firma tra il direttore Abruzzo e Molise dell'Agenzia del Demanio, Vittorio Vannini, e il segretario per il Molise e direttore del Polo Museale del Ministero, Leandro Ventura. L'esatto comporta l'avvio di tutta una serie di procedure finalizzate alla riapertura della Biblioteca. Procedure che sono di carattere tecnico, quindi semplicemente riattivazione di utenze, di canoni di locazione, ma anche procedure che riguardano il personale, quindi il trasferimento del personale dal Polo Museale, dove è attualmente in servizio, alla Biblioteca. E quindi anche la riapertura di contratti con le cooperative che in precedenza fornivano parte dei servizi. Quindi insomma, oggi stesso io scriverò alla Direzione Generale delle Biblioteche per chiedere appunto l'avvio di queste procedure che non dipendono da me. Quindi aspettiamo che da Roma arrivi la risposta. Quando riaprirà la Biblioteca Albino? Dunque aprirà il più presto possibile, una volta esaurite queste pratiche preliminari. Io spero entro l'autunno, quindi subito dopo l'estate. Presenti alla sottoscrizione il governatore Frattura, il consigliere regionale delegato alla cultura Ioffredi, il presidente della provincia di Campobasso, Battista, il direttore della Biblioteca Albino Lombardi. Sottolineata l'importanza di un lavoro sinergico. A partire dall'accordo di valorizzazione firmato lo scorso mese di settembre, tra il Ministro dei Beni Culturali, la Regione Molise e le province di Serni e Campobasso. Quell'accordo è stato il primo in Italia e ha costituito un modello anche per altre regioni. La Biblioteca Albino era già il polo di coordinamento del sistema bibliotecario nazionale per il Molise, quindi continuerà ad esserlo e quindi il servizio sarà garantito se non rafforzato. Ventura ha poi annunciato altre novità. Il patrimonio della Biblioteca Albino vedrà un primo momento di valorizzazione in occasione della Fessa dei Misteri, perché stiamo programmando un'esposizione dei disegni di Dizzinno, dedicato appunto ai misteri, nel Museo Sernitico. Quindi è un primo momento, diciamo, di virtuale riapertura. La procedura di passaggio dal demanio al Ministero dei Beni Culturali di Palazzo Mazzarotto e quindi del Museo Sernitico si concluderà entro il mese di giugno. Quindi anche in questo caso, diciamo, già buona parte delle collezioni era di proprietà dello Stato, adesso con questo ulteriore passaggio, con questo ulteriore atto, insomma, si definirà tutto, cioè tutto il museo passerà alle divenenze dello Stato.